Fond Italia con Nicole Gontè. Allora Nicole, intanto siamo in piena preparazione, abbiamo avuto le prime gare, come stai, come stanno procedendo le cose? Ma gli allenamenti procedono bene, in questo periodo sono un po' stanca dagli allenamenti, ma come è giusto che sia, le gare un po' di alti e bassi, oggi non è andata come speravo, troppi errori di nuovo, sappiamo su cosa lavorare e lavorerò per arrivare poi questo inverno al meglio. Tu rispetto alle tue compagnie di squadra hai confermato praticamente gli allenatori della passata stagione, questo può essere anche per te un vantaggio conoscerli già? Ma sicuramente è un vantaggio perché io con Nicola e Klaus ho lavorato benissimo l'anno scorso, quando mi hanno detto che sarebbero stati nuovi con me ero veramente felicissima, quindi è un bel lavorare, sono molto intelligenti e si sta bene con loro, quindi sono contenta. L'anno scorso hai fatto di nuovo un bel passo avanti, sei tornata in Coppa del Mondo a ottenere anche dei buoni risultati, ti sei qualificata anche per le Olimpiadi, obiettivi per questa stagione? Ma diciamo che non mi pongo tanti obiettivi a livello di classifiche, opposizioni, se non di ritrovare di nuovo me stessa quella che comunque ho ritrovato l'anno scorso e riuscire a lavorare e portare quello che riesco a fare nel lavoro anche in gara. Grazie mille.